ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video si sono sempre io come potete vedere mi sono tagliato un po la barba e i baffi però sono sempre io il vostro ac51 oggi vorrei tornare a parlare di formula 1 dato che in questo weekend non ci sarà niente nel formula 1 nel moto gp ho deciso di fare un po un mix diciamo di video riguardanti proprio i due sport che amo di più partiamo dalla formula 1 perché qualche settimana fa vi avevo promesso che avrei portato un contenuto dedicato in qualche modo a lando norris per analizzare il motivo per cui il pilota inglese della mclaren non riesce a vincere nonostante tutte le occasioni che ha avuto ed è una situazione che in qualche modo io ho già vissuto perché lando norris è uno dei tanti piloti come ad esempio anche le clerche verstappen russell piastri che sono piloti che io ho seguito nelle categorie minori e devo dire che norris da quello che sta facendo adesso in formula 1 non mi sembra per niente cambiato rispetto a quello che faceva nelle categorie minori mi spiego meglio norris io ho imparato a conoscerlo nel 2018 quando correva in formula 2 e quella stagione lui se l'è giocata per il campionato guarda caso contro george russell quindi loro due hanno già avuto modo di confrontarsi e di avere un bel duello spettacolare perché mi ricordo che soprattutto il gran primo di italia monza se non ricordo male era la feature race ovvero la gara del sabato ricordo che russell e norris avevano dato vita ad un duello fantastico ed è stata una stagione fantastica perché alla fine se la sono giocata loro due però in un modo che tu vai a dire guardi i risultati e dici vabbè russell ha meritato il campionato per quale motivo perché russell quell'anno ha vinto 45 gare adesso non mi ricordo benissimo mentre norris ne ha vinta solo una ovvero il gran premio inaugurale in bahrain e già allora io ho detto probabilmente norris si può essere bravo nella costanza cosa che ha dimostrato anche in formula 1 però in quanto a vittorie forse norris non è ancora capace di gestire quella pressione ed è un ragionamento che in effetti si sposa benissimo con quella che è l'attualità di norris perché se già allora lui era sì molto costante e la sua costanza gli ha permesso appunto di giocarsela per il campionato fino all'ultima tappa ad abu dhabi contro george russell che aveva già vinto tante gare allora lì ti faceva pensare che forse norris fosse sì pronto per la formula 1 ma non per lottare per le vittorie tra l'altro io ritengo che lando abbia avuto non dico fortuna però abbia avuto una grande opportunità quella di correre fin da subito sin dal primo anno con la mclaren nel 2019 e da allora è sempre rimasto con la mclaren che è un binomio assolutamente ottimo lui è un pilota inglese la mclaren è inglese quindi diciamo che è un binomio che ci sta assolutamente e praticamente anno dopo anno c'è stata una crescita il primo anno veramente in cui norris ha fatto vedere le sue qualità è stato il 2021 quando la mclaren ha preso i motori della mercedes e norris ha cominciato anche a fare dei podi proprio nella stagione 2021 c'è stato poi anche il successo della mclaren a monza ma non per merito suo più che altro per merito di danni al ricciardo con la mclaren che in quel giorno portò a casa una storica doppietta però già lì fece in qualche modo clamore il fatto che avesse vinto il pilota che fino a quel momento non è che avesse fatto una stagione grandiosa sto parlando di ricciardo mentre quello più costante fino a quel momento era stato norris discorso che non vale per il 2022 perché il 2022 è stato un anno diciamo di diciamo acerbo per la mclaren perché il nuovo regolamento non erano riusciti ad adattarlo subito bene poi nel 2023 si è tornati o addirittura si è addirittura andati oltre al livello che era il 2021 perché da metà stagione in poi da quando hanno portato quel famoso aggiornamento che ha completamente ribaltato la macchina la mclaren ha cominciato a lottare gara dopo gara per i pochi con norris che ha fatto una marea di secondi posti però non era mai riuscito a beffare max l'unica volta che la mclaren è riuscita ad arrivare davanti a verstappen è stata nella sprint del qatar ma anche in quel caso non era stato norris era stato piastri quindi anche in quell'occasione è vero che nel 2023 è stato un anno in cui di occasioni ce ne sono state poche però proprio nella pista dove in teoria la mclaren doveva stare davanti ci ha pensato piastri a stare davanti a max anche soltanto nella sprint ma è un discorso che ci sta a pieno mentre norris addirittura era finito dietro poi nella gara di domenica norris è addirittura arrivato davanti a piastri ma a vincere la gara era stato verstappen e arriviamo così a questa stagione con norris che dopo le prime gare ancora una volta con risultati molto costanti si ritrova tra le mani una mclaren vincente arriviamo a miami con la mclaren appunto aggiornata che però vede protagonista norris non di un weekend straordinario infatti non ha fatto una gran qualifica poi in gara si è ritrovato l'occasione per colpa degli altri quindi in quel caso non era stato merito suo però una safety car arrivata nel momento giusto e lui che era nel momento giusto quindi lì non sto parlando di fortuna sto parlando semplicemente che si è ritrovato nella situazione esatta nel momento giusto però non per merito suo più che altro per quello che è successo agli altri quindi safety car norris rientra con un p-stop gratis si ritrova davanti e da quel momento in poi è stata semplicemente una gara da leader con un ritmo veramente straordinario quella è stata la prima e unica vittoria di lando norris per ora e adesso norris sta ancora lottando con questo fardello ovvero di poter portare a casa sempre un risultato ottimo perché lui continua a fare dei podi continua a essere lì in qualifica addirittura ha fatto due pole position in spagna e in ungheria solo che il problema persiste ovvero che lui è un pilota capace di portare punti alla squadra ma che non sa cogliere le sue occasioni appena alla macchina perché lui adesso la macchina ce l'ha solo che dalla dalla spagna in poi anzi dal canada in poi è stato un fallimento continuo in canada vuoi per i suoi errori vuoi per l'ore di strategia era praticamente davanti e ha terminato la gara secondo in spagna partiva dalla pole e si è fatto beffare in partenza sia da verstappen che da russell poi arriviamo in austria dove lì c'è stato il duello con max però posso dire ad oggi a freddo che lì è stato proprio norris che ha gestito male il duello perché poteva tranquillamente diciamo punzecchiare ancora un po max e forse lo avrebbe anche passato poi non sto dicendo che quel duello si è conclude con la totale colpa di norris non sto dicendo assolutamente questo però è il caso di dire che anche quella è stata un'occasione sprecata poi passiamo alla gran bretagna anche lì strategia completamente sbagliata della mclaren tant'è che alla fine norris da un potenziale primo posto si è ritrovato a chiudere terzo fino ad arrivare all'ungheria ancora una volta pole position ma in partenza si fa beffare da piastri che poi gli ha dovuto comunque diciamo con la strategia della mclaren che gli ha fatto un pasticcio con norris che poi è ripassato davanti a piastri però negli ultimi giri gli hanno detto senti ricedi la posizione perché altrimenti qua rischiamo di creare un ambiente tossico cosa che in effetti norris ha fatto in belgio invece un disastro dopo l'altro malissimo la qualifica malissimo la partenza dove addirittura da quarto si ritrova settimo e da lì una gara praticamente a trenino quindi come potete vedere un lanno norris che quando deve portare a casa il risultato lo fa però quando ha tra le mani la macchina che adesso la mclaren è indubbiamente la macchina migliore si ritrova però in una situazione che non gli permette di vincere ed è una cosa parecchio particolare perché se tu per esempio dai la mclaren a verstappen verstappen te le vince tutte lo ha dimostrato lo scorso anno con la red bull quindi non so se questa situazione potrà migliorare o meno però io ho la sensazione che sia più o meno la stessa cosa che norris ha vissuto in formula 2 nel 2018 ovvero che sono passati sei anni però a me sinceramente sembra lo stesso poi non so magari ovviamente è maturato tantissimo adesso è pronto diciamo per lottare per le vittorie solo che continua a commettere dei errori che spesso sono anche banali riuscirà a risolvere questa situazione non lo so soltanto il tempo potrà dircelo soltanto le prossime gare quando tornerà la formula 1 e lì vedremo perché sicuramente adesso norris non è pronto per lottare per il mondiale anche se secondo nel campionato se continua a fare questi errori ovviamente non è non è pronto però vedremo ci sono ancora tante gare da vivere magari potrebbe anche essere una preparazione per il 2025 e vedremo se allora norris sarà pronto per giocarsela per qualcosa di più questo è tutto dunque un video particolare in cui ho voluto parlare appunto di norris per come lo conosco io per come ho imparato a conoscerlo nelle categorie minori e vedremo appunto quello che riuscirà a fare nelle prossime gare alla guida di una mclaren che ribadisco ormai è nettamente prima forza questo è tutto dunque io vi ringrazio per avermi seguito in questo video e ci rivediamo alla prossima ciao a presto